Partite! Per costruire i mesi del rapimento del presidente Moro, dando una rilettura molto particolare basata su documenti realmente esistenti e sugli atti della commissione Moro che fu fatta negli anni Ottanta. Ci sarà un personaggio chiave che non è facile. Ci sarà un personaggio chiave che avrà il ruolo di dare degli indizi al magistrato per portare avanti le sue problemi. Non si può fare. Non si può fare. Non è umano. Cioè, ha i vermi al colo. Va bene, comunque, tra gli attori ci sono giocati Giannini e Stefania Rocca. E basta direi che può andare così, possiamo anche premere play. Se Mauro può stare ancora così, va bene. Grazie. 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 Grazie per favore. Grazie.